Un'altra nave da crociera si trova in rada a Sanremo. Non è la prima volta che le navi da crociera di lusso si affacciano sul porto di Sanremo. La nave è ben visibile da tutta la città. Per tutto il giorno i croceristi sono sbarcati sulla banchina di Porto Vecchio giunti a bordo dei tender. A Sanremo infatti c'è stata una nuova discesa a terra di turisti che arrivano dal mare. E' approdata così in rada a Sanremo la nave da crociera Sibun-Sujur, proveniente da Propriano. E' arrivata nel porto della città dei Fiori alle 8 ed è poi ripartita intorno alle 18 con destinazione porto di Lavandù. I passeggeri, 450 più 300 di equipaggio in maggioranza erano americani, australiani e inglesi. L'accoglienza dei turisti sul molo di Porto Vecchio è stata curata da Confcommercio, Sanremo Promoscio e Comune Matuziano. Al punto di accoglienza il personale ha offerto loro acqua fresca e indicazioni su come trascorrere la giornata in città, complice anche la bella giornata di sole. L'occasione è stata lieta anche per consegnare ai croceristi la nuova Sanremo City Map. I viaggiatori subito dopo hanno visitato la città dei fiori. La lussuosa nave da crociera ancora una volta si è lasciata ammirare dai tanti curiosi, che hanno invidiato i suoi ospiti a bordo, che una volta scesi sul molo di Porto Vecchio hanno girato a piedi per le vie cittadine, alla scoperta di luoghi incantevoli e affascinanti come la nostra riviera di Ponente sa offrire. Quello del turismo da crociera è considerato uno dei mercati in maggiore sviluppo, che in questi anni ha risentito meno della crisi, anche in base alle offerte che le grandi compagnie offrono, con conseguenti ricadute per le zone di sbarco raggiunte durante le traversate. Rispetto allo scorso anno, il numero delle navi da crociera in Porto a Sanremo è raddoppiato.